Dopo lunga gestazione, frutto di un'estenuante trattativa per l'attribuzione dei tre assessori al partito di maggioranza, sabato mattina il riconfermato sindaco Seri ha presentato alla stampa la squadra di assessori che lo affiancherà in questo secondo mandato e che ha ufficializzato la definitiva fuoriuscita dall'esecutivo di Stefano Marchegiani, ex assessore alla cultura ed ex vice sindaco, uno però della rosa dei cinque nomi che erano stati presentati venerdì sera dal PD al sindaco eletto, frutto di riunioni e trattative tra i vertici di partito e Seri e dai quali sarebbero scaturiti i tre assessori democrat di questa legislatura. In questi cinque anni si è fatto un buon lavoro per cui si continua con tutti i progetti in etinere, in cantiere ma anche con nuove progettualità perché l'obiettivo è quello di continuare a far crescere ancora Fano. La nuova giunta definita dal sindaco giovane, entusiasta e determinata è un mix tra conferme e nuovi innesti e con una diversa attribuzione di deleghe rispetto alla precedente formazione, altro nodo cruciale di questo passaggio che evidenzia un'altra sostanziale rottura col passato attraverso l'ascissione del turismo dalla cultura, prima concentrati in un unico assessorato, ora divisi tra il neoassessore Lucarelli con delega al turismo ed eventi e la del bianco che allo sport aggiunge la pesante delega di cultura e beni culturali. Ma vediamo nel dettaglio chi farà e cosa. Massimo Seri ha tenuto per sé sanità, personale, politiche comunitarie, rapporti internazionali, città dei bambini e delle bambini, marketing e piano strategico. La prestigiosa carica di vice sindaco invece è stata assegnata al riconfermato Cristian Fanesi che per il lavoro svolto nella passata legislatura è da sempre stato l'unico nome certo del tridente PD e ha incassato un mix di nuove e vecchie deleghe e quella un po' più spinosa dell'urbanistica con il delegato compito di redigere il nuovo piano regolatore. A Fanesi dunque va urbanistica, demanio marittimo, difesa della costa, viabilità e protezione civile. Davvero contento, ovviamente le sfide che abbiamo di fronte sono importantissime, realizzazione e manutenzione degli impianti sportivi perché qui si pensa non è un segreto a un nuovo palazzetto dello sport, c'è il discorso dello stadio, poi c'è l'urbanistica perché realizzazione del nuovo piano regolatore partendo dal buon lavoro fatto da chi mi ha preceduto Marco Paolini deve trovarne nei prossimi anni un compimento. Per la riconfermata Caterina Delbianco, espressione della lista Noi Città, dunque è arrivata la delega alla cultura e beni culturali e la più invece rassicurante delega allo sport dove ha ben figurato nei passati cinque anni. Altro appartenente alla passata legislatura, Samuele Mascarin, che vede riconfermato in toto il suo pacchetto deleghe che sono politiche educative, biblioteche, società partecipate, ecologia, memoria, legalità e ambiente. E che, nonostante la giovanità, si ritrova con la carica di assessore anziano e che avrà l'onore di aprire i lavori del primo Consiglio Comunale, come prescrive la norma, non essendo ancora stato nominato il nuovo Presidente del Consiglio. Oggi sono molto soddisfatto, anche da un punto di vista personale, mi si è consentito dire, perché c'è un riconoscimento di un lavoro che non è solo mio, ma anche di un'esperienza, quella della sinistra fanese in questa città, che io in questa giunta oggi rappresento. E sono soddisfatto anche di trovarmi in una giunta giovane, rinnovata, che credo abbia tutti gli elementi, il giusto sprint per fare veramente un ottimo lavoro e rendere il giusto servizio alla nostra città.